Si è arrivati a questo punto, io è da prima di Ferragosto che lamento il fatto che alle regioni non sono stati dati i poteri e i soldi per poter realizzare nuovi posti di terapia intensiva e attuare quel piano di potenziamento della rete Covid che a maggio è stato decretato dal governo ma ammettendo una serie di passaggi burocratici e di ostacoli con la mentalità da pianificazione sovietica che contraddistingue questo governo e quindi da maggio la delega per poter operare mi è stata data solo un mese fa, l'8 di ottobre. In un mese stiamo facendo miracoli, abbiamo già di fatto bandito le gare, assegnato le progettazioni ai progettisti, raccolto i progetti chiedendo ai progettisti di dimezzare i tempi di progettazione però poi si può comprimere fino a un certo punto i tempi tecnici di lavorazione e soprattutto di effettuazione poi degli interventi di edilizia e quindi adesso temo che con questa pesante onda che è già molto pesante e non è ancora arrivato il freddo e non è ancora arrivata l'influenza tra pochi giorni tutta l'Italia si ritroverà in zona rossa, non c'è poco da fare. Ecco da domani tante attività dovranno per forza di cose chiudere le proprie saracinesche, ha un messaggio per queste persone che comunque si sono trovate a riconvertirsi e poi a chiudere definitivamente? Sì io sono molto dispiaciuto, da domani chiuderanno tutta la giornata, bar, ristoranti, pasticcerie, io credo che sia stata anche questa decisione del governo che la zona arancione chiude soltanto queste attività come se fossero le attività che diffondono il contagio, a me sembra un po' sproporzionato e anche poco efficace complessivamente se si voleva fare una linea intermedia tra il chiudo quasi tutto della zona rossa e il tengo quasi tutto aperto delle zone gialle forse si dovevano individuare altro tipo di scelte, ne ho parlato, ho espresso questa mia perplessità anche al ministro Speranza ma questa è la decisione che ha preso il governo e ci dobbiamo attenere alle regole spero almeno che i rimborsi, i ristori che sono stati decretati con i due ultimi decreti legge arrivino davvero in maniera tempestiva e possano essere almeno minimamente sufficienti a permettere a queste famiglie di poter tirare avanti e ripartire appena possibile